Ciao a tutti ragazzi, puoi già non arrivare al centesimo Lasciamo tantissimi mi piace, ma 2000 più o meno 3.000! Fate voi, fate voi Se se non di più lascia Mi sono buttato, allora, sono diventato un maestro del campo Bantati anche Si, lo so che è una cosa brutta, però questo ragazzi è un Hunger Games Qua si lotta per la sopravvivenza Allora, in quanto la vedo una pozione su, che io direi di andare a prendere dopo Prima voglio un'arma La c'è la roba verde Eeeh, prendo quest'arma Ehi, 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 ehi. Ehi, 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 ehi Chu, eh, Chu, Nohari, nohari, Vadissimo, perfetto Ok, non ha preso niente Ok, adesso possiamo andare avanti E? Ehi, ehi, ehi Mi sta sparando Mi sta sparando, aspetta. Una coppa è sicura da con un ruizzere Questo è molto, molto, molto forte Quello lì Sì, è la dell'attore Ok, perfetto Tutti attuali Tom, Giving Tau, che fa questo suono Mi crescendo Vabbè Il problema nostro attualmente Cos'è quello? È lanciarodo La prima volta che c'è questa arma Sì È un lancia Lancia granata Aspetta un attimo No questa Lancia uova Ah beh perché è Pasqua c'è il nuovo poso Tiri un uovato in faccia Boh ma sai Cioè se arriva da lì è un coglione Ah guarda Non si sa mai che arriva da lì Non so Arriva da lì Tu dici Scusa la porta a aprirsi Ah ti ha aperto la porta Adesso fa il giro Il fatto è che io non sento bene Aspetta che alza un po' il volume No perché se non sento Perché non posso usare le cuffie ragazzi Non sento Perché altrimenti se io uso le cuffie Rinnega non sente nulla Beh non è che c'è tanto problema Eh ho capito ma dopo non senti C4 C4 ma il C4 ad esempio io non lo uso mai Cioè dovete prepararti tipo le trappoline Non sarebbe male fare una trappola all'avversario però Sì ma controlla un cazzo di armi ragazzi È incredibile Ma il questo intanto No 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 Non c'è in grado Eh dai io guarda che non so E gli esce il C4 al nemico Sì Non mi va il C4 Non mi piace Non l'ho mai usato Se lo mangi è grave No il problema è che tu Per usare il C4 Dovresti preparare delle trappoline Io non ho pazienza A me piace camperare in sto gioco Ma tipo ho tanto ragazzi Sono un camper schifoso Lo so Nooo Oh Non ci credo Anche sta cosa adesso Mi ha fatto ballare E adesso dove sarà Michael lì? Ti stai inseguendo? Io faccio il giro e me ne seguo a sua volta È la prima volta che mi ha questa lancia patate Perché stai verso il bordo della zona salvezza? Lo faccio sempre Perché? Perché quando tu stai verso il bordo Allora tendenzialmente è più facile trovare i drop Cosa che poi non vado a prendere Perché se vado vicino ai drop Ti sparano Eh ma tipo Una volta sono riuscito a ucciderne tre Io sono andato a prendere Eccolo là Ma è troppo distante È troppo distante Ah il checkino comunque lì Adesso Ah Dove è andato? No 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 Mi ha visto per primo Io una cosa ho capito Perché l'hai usato l'ancia-cousek? Eh ma perché esplode dopo un po' in teoria Comunque non sono mai usato Non l'hai provato Eh beh potrei provarlo almeno Potremmo usare per sentire come facciamo sempre Cioè io con le cuffie dell'iPhone tipo E tu con le tue che portavi da casa Forse abbiamo trovato un modo ragazzi per sentire Ho usato due cuffie col jack Spero di riuscire a Ma no c'è Si è già buttato uno qui Vabbè Devo andare via Eh Qualcuno c'è già stato Se non me la fa prendere La cassa di emunizione E infatti c'è già stato qualcuno Ho lasciato lì una granata Il che Il che è preoccupante Spada un colpo ogni 20 minuti Molto Oh che spacco che ho preso Corri Madonna Sfuggi Sono partito male ragazzi Rifacciamo Sono un maestro del camping Questa cazzo mi sta spettando Non mi devo decidermi così di fretta Lo so Ecco io ho 57 di vita C'è stato il che devo fare Hai visto? Hai visto? Si Non mi vede Tranquillo Ok Il massimo della vita che posso avere con questi medikit Possiamo andare avanti Voi a prenderti adesso Sai dov'è? Ma sei fuori Sicuramente ha più vita di me Scambierei Scambierei la pistola Eh da sotto l'hai visto? Sparalo Eh mi ha fatto 90 Vedi adesso ho anche le bende per curarsi E' l'ennesima partita Vediamo un po' se questa volta riesco a fare qualcosa Dici tanto tomato town che non vuoi andare Ci vai No non va la tomato town Vado lì Inizia già a spararlo In testa Aspetta 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 Sotto mi dice una arma Perfetto Adesso ci sono colpi Ok Non vedi una trappola lì A caso magari uccidi qualcuno Per sbaglio C'è un pezzo di roba Il problema è che adesso come cazzo devo andarci Di sopra Legno 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 Che che corre qua Tu? No c'era uno che correva Ok Preso la roba E adesso? E adesso Dura a morire Un po' di roba Ci ha calato tantissimo Tutto Sperà voglio avere il fucile a pompa Etico Ok Questa cos'è? Una granata Questa un mitra Che posso scambiare il posto della pistola Non mi frega nulla E questo Prendo questa mitra E' un posto di mitra Che cos'è? Mitra Fucile a pompa Fucile di precisione Inizia a prendere robe Sbatteri il pipone a casa Io non costruisco mai nulla E lì dentro? Di solito c'è una cassa Infatti c'è una cassa Ma sai che dovresti Costruire le cose? Sì ma non sono in grado Sono molto scassa Questa delle cose Credo solo tempo Ehm Questo qua è un po' di precisione A semi-rafica Quindi va benissimo Quindi non è un colpo alla volta Sai? Quindi dove vai? Magazzino a muffito Hanno già sciacallato In questo posto Quindi solitamente Per andare In un posto Dove si può trovare colpo Attento bene che c'è la costruzione No è una macchina roba altata Quella? Sì Eh il problema è che adesso Vado in tipo in quelle zone lì Nelle case distrutte Cose varie Perché solitamente Le persone tendono all'inizio Da quello capito Andare nelle cittadine No? Dove ci sono i palazzi Fino dei palazzi Esatto Invece io vado Perché siccome ci sono già stati Vado qui Questa tecnica è impressionante Sapilo Boom Boom That's some bitch Aspetta 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 che prendo il cucilazzo Questa qua Le bende Metto qua Un ha sparato Ma chi ha sparato? Questo è il camper Ne c'è spuglio Che schifo Io sono prima a farlo Dico Però Quando vedo gli altri Che lo fanno Mi da fastidio Voglio farlo solo io Così No l'altro Oh Oh No mi si era appallato il gioco Mamma mia Oh che scasso Che scatturo Che ho preso E tu hai fatto la costruzione di qua Per salire giusto? Sfruttalo per scendere No ma in teoria C'è il posto Vai nel drop là in fondo Ma è più che c'è arrivo Bravo Hai posizionato di gioco Già Non è che tu stai scappando alla tempesta Sì Verso Insomma La zona di sicuro Ma dove ero primo Ho dovuto questa strada Ho fatto Oh Questo è un posto perfetto Per camperare ad esempio E la madonna Ah è un luci nuovo Sì Potentissimo Tra l'altro Epico l'ho preso Ma cos'è? Sta lanciando missili Sta lanciando Hai visto? Ah sì Non sarò mica Praticamente È un'arma nuova Tu spari il missile Lo piloti tu Lo puoi far girare Col mouse Fugo Oh sì Cazzo Guarda se sta 15 secondi Così adesso Io non mi rado Cos'è Dovrebbe rappresentarmi un gatto È un lama Ok Ma come fai dire che è un lama? Sì Sono le pignate a forma di lama Quindi è un lama Allora C'è un cos'è Tu mettila Solitamente va messa anche qua così Lascia la pozione lì Lascia la pozione Ah così uno va a prenderla Dici Eh però si vede Non si vede Arriva uno qua Wow Wow Non si vede Si tanto non puoi usarla Aspetta se io invece la prendo Aspetta eh Me la butto proprio sotto la trappola L'ho eliminato con la trappola Questa che è furbata che gli ho fatto Gli ho lasciato Ti ho detto io No Io gli ho lasciato Però la cosa bella è che io Tu hai dovuto dire la giusta Però io gli ho messo la cilegina sulla torta Gli ho messo la pozione Sotto la trappola Ah c'è un trapposo di lano Aspetta che adesso è arrivato il momento di camperarvi Ma tipo tanto Possibilmente dal lato in cui da loro Loro non possono arrivare Hai capito? Eh tipo Tipo qua loro non possono arrivare Qui non puoi andare Qui al massimo cadi giù Come un pirla Lo so Lo so Il modo di giocare è orribile Ragazzi Lo so No è fastidiosissimo È fastidiosissimo Ma altrimenti muoio Aspetta che si mazzano tra di loro Io figurati se vado a È da dietro di te che arriva Non stai attento? È da dietro di me Scusami La mappa si sta stringendo Da dietro di me Perché io Vedi se mi abbia tu? Sì Vedi sta andando in alto Non va neanche a prendersi la roba Se ne sbatte proprio Andate là dentro E me ne vado di là ragazzi Ora che lui è andato da quella parte Vado da questa parte Vedi Si stanno spostando da Ah là in fondo sta incostando qualcosa Vado dentro da quella casa lì Preparati Arrivano tutti quanti qua adesso E fermo là Sfaro Che cazzo momento Sì Muori Bene Adesso vado a camperarmi qua dentro Oh che fucilata L'ho tirato in faccia Ma no Solo perché la fermo Non mai spararsi Eccolo là Spara gli archi dei due Eh sono dietro il muro Ma cosa ho fatto Sì ma adesso Punta là intanto Eh ho paura Sa che ho sparato da questa parte Ma cosa vuoi che sappia Lui sta costruendo Non capisci un cazzo Ma lui pensa che io dove Dove pensa che io ci riesco Ah in teoria Se lui usa questo missile però Adesso tu mi dici come fa No costruisci Così i missili Infrangono lì sotto Se io uscissi dalla casa Adesso Ma dov'è Ma voi mi spiega Voi dovete spiegarmi Come lui Lui che stava sparando Come ha fatto a capire Che io ero lì Vabbè oh eri lì Sì ma come faccio a saperlo Ma ti tira il missile Comunque sono bravo o no A camperare No non è che è camperato comunque Beh insomma Ho sempre sparato da lontano Se me sto molto distante Sei stato un po' troppo fermo Non è morto tranquillo È uscito dalla partita Ti sta bene Ciao a tutti ragazzi Al prossimo video Hai posizionato 99 Hai posizionato 2